Mamma mia quanto è dura il lunedì, poi risa una caffeina va, e che ci ammazza. Ciao a tutti amici di Chimera Revo, oggi parte qualcosa di nuovo e ci vedrà occupare ogni lunedì su questo canale. Quindi benvenuti in Killer Deals dove vi porterò tre fantastiche offerte assolutamente da non perdere. Se questo video dovesse piacervi, beh lasciate un bel pollicione in su e magari iscrivetevi al canale. Ma senza perdere altro tempo passiamo subito al primo prodotto. Tutti noi abbiamo bisogno di memoria, e vorrei averne tanta adesso per riuscire a ricordarmi cosa devo dire. Però sto parlando in realtà di una SD da 128GB classe 10 con una velocità di scrittura massima fino a 95MB al secondo. È una scheda SD UHS1 U3 e sembra uno scioglilinguo, è vero, però in realtà sta a significare che questa scheda è una delle più veloci sul mercato. Infatti potrete registrare video in Full HD oppure fino a 4K e ovviamente scattare tutte le foto che voi volete. Cosa fondamentale, prima ancora di acquistare questa SD è verificare sul manuale di istruzione se la vostra camera, che sia una reflex, un action cam oppure una semplice compatta, possa gestire e quindi supportare una scheda di questo tipo. La maggior parte lo sono, ma uomo avvisato, mezzo salvato. L'hexar è assolutamente una garanzia per questo tipo di prodotti e ora che è al 10% di sconto vale assolutamente ogni singolo centesimo. Può essere vostra con poco più di 60€, compreso le spese di spedizione, e potete trovare il link qui sotto in descrizione. Ma passiamo ora al secondo prodotto e cambiamo completamente categoria. Può sembrare un braccialetto, può sembrare uno smartwatch, ma in realtà è qualcosa di diverso. Il Huawei Tokband B2 infatti è uno speaker bluetooth e può essere estratto e messo poi vicino al vostro orecchio per funzionare come un qualsiasi headset bluetooth, ma è anche un valido assistente per le vostre attività fisiche. Materiali decisamente di ottima qualità, forse il design non può piacere a tutti, però è molto molto curato. Tokband in piena autonomia è in grado di registrare la vostra attività fisica e anche di capire il movimento che state effettuando, che sia una camminata, una corsa oppure una pedalata in bicicletta. Questo tipo di prodotti non sarebbero nulla senza una valida applicazione a supporto e anche in questo caso Huawei non si è fatto attendere. Infatti l'applicazione che trovate sia per iOS che per Android è veramente ben realizzata. Con l'applicazione infatti potrete sincronizzare il vostro braccialetto con lo smartphone e in questo modo tenere traccia di tutti i progressi che avete fatto. Il numero di passi, le calorie bruciate e anche quanto avete dormito durante la notte, cosa molto importante soprattutto se volete essere belli rilassati. Il suo prezzo di listino è di 199€ ma in questo momento su Amazon lo potete avere a metà prezzo, quindi a 99€. Direi che un pensierino andrebbe fatto. E siamo giunti al terzo e ultimo prodotto con un consiglio utile veramente per chiunque. Sappiamo bene quanto sia problematica la situazione delle batterie per i nostri dispositivi e spesso ci troviamo a dover a che fare con cellulari completamente morti quando abbiamo la necessità di fare una chiamata importantissima oppure se dobbiamo andare da qualche parte e ovviamente non possiamo accedere al GPS. Ed è questo il momento in cui ci vengono incontro i powerbank. Ma si dice i powerbank o le powerbank? Eh, non lo sai? Ah, neanche io. Vabbè. Come stavo dicendo ci vengono incontro delle batterie ausiliari, in questo caso una da 16.750 mAh con una potenza massima unica nel suo genere fino a 4.5A. Tutta questa energia la dividiamo ovviamente sulle due porte USB presenti, però se doveste collegare un solo dispositivo, quest'ultimo prenderà tutta l'energia per sé. Per farla veramente in parole semplici potrete ricaricare il vostro telefono 5-6 volte di seguito senza avere alcun problema. Molto compatto, sicuramente non leggero come tutte le batterie di questo tipo, però devo dire che è realizzato molto bene. Cosa molto interessante è poi la presenza di 4 LED che ci danno la possibilità di verificare la carica effettiva della nostra batteria esterna. Ora lo si può comprare a 29€, un prezzo assolutamente incredibile, quindi forse in voi non me lo farei scappare, anzi io vi saluto perché vado subito a metterlo nel carrello. Per oggi è tutto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale. Se avete dubbi o domande riguardo questi prodotti lasciate un commento qui sotto oppure sui nostri social e trovate tutti i link in descrizione, dove vi ricordo troverete anche i link a tutti i singoli prodotti che abbiamo trattato in questa rubrica. Per ora è tutto e noi ci vediamo sicuramente il prossimo lunedì con tanti killer deers entusiasmanti. Alla prossima!